E il vostro Crax mantiene sempre le promesse, ebbene sì, scusatemi se ho frammentato il video sneak peek in due parti, ma i bilanciamenti sono super sexy e non posso non dedicargli un video a sé, ovviamente, guardate chi c'è nella home del mio account, cioè Giovi e Yoshi, giocheremo anche la 6 potere, rimanete sintonizzati, siamo a 499, le perderemo tutte, i bilanciamenti sono top, ma è ancora più top, la cassetta gratis nel negozio che prenderemo alla fine, e le casse dell'inizio, sì, sono fine, sì, sono offerta speciale, punti stellari, 2000 like, 500 più 1500, e le apriamo domani o dopo domani. Codice creatore Crax, iscrivetevi, campanella perché siamo sotto aggiornamento, lo sapete meglio di me, e il canale giusto, eccetera. Partiamo subito con i bilanciamenti al volo, poi dopo andiamo a giocare, ho tirato il telefono per poco spacco l'iPad, Gelindo. L'attacco principale di Gelindo adesso spara 6 piccoli proiettili, migliorando nella compattezza del danno, se prima colpivano con un raggio così grosso, adesso con un raggio più piccolino, quindi è più probabile che i colpetti colpiscano l'avversario, un bel buff. Oltre a questo, Gelindo non subisce più il contraccolpo quando utilizza la super, quel saltino che faceva lì indietro, rimane fermo ed è ottimo. La distanza del contraccolpo della super sui nemici è aumentata, quindi quando noi colpiamo con la super, i nemici verranno spazzati via, proprio sventolate via. Ciaone, Gelindo, top. Iris, finalmente il buff. Chi l'avrebbe mai detto al momento della presentazione che Iris avrebbe avuto bisogno di un buff? Buff arrivato, grazie al cielo, aumentati i punti vita da 2400 a 2600, il proiettile dell'attacco principale di Iris adesso percorre una distanza extra, se non raggiunge il bersaglio, per migliorare la consistenza del danno. Maronna mia, cioè, può andare ancora più in là. Incredibile. Dynamike, sempre a cuore, viene sempre buffato ma non entra mai nel meta. Fidget Spinner, il gadget, aumenta anche la velocità di movimento, quindi noi andiamo velocissimo e nel frattempo tiriamo roba a caso un botto dei dinamiti. Questi qua sono i buff. Abbiamo tre nerf e un remodel interessante. Partiamo da nerf. Eugenio, nerfato giustamente, diminuita la vita da 3006 a 3004. Io ricordo che queste sono le statistiche del brawler base. Un piccolo nerf. Eugenio è forte in tutte le modalità, quindi ci sta. Jackie, ragazzi. Maronna mia, un altro nerf. Diminuiti i punti vita da 5200 a 5000, quindi più fragile. Diminuito il boost di motore potenziato da 30% a 20%. Corre meno velocemente col gadget. Però, facendola andare più lenta, ovviamente le ricariche del gadget vengono spostate da 2 a 3. Prima erano state nerfate a 2. Adesso se ne possono riutilizzare 3, ma sono più lente. Interessante. Semino. Semino, ragazzi, qua mi faccio il segno della croce. Ciao, Semino. Ciao. Mamma mia, che botta. Germogli potenziati. Adesso impiegano 5 secondi di carica per l'incremento del raggio. Mi hanno spiegato in chat che sarà tipo il turboscatto di Mortis e i cerotti di Shelly. Cioè, possiamo spammare un colpo con area più grande ogni 5 secondi. Ciao nella prima star power. Diminuito il tasso di ricarica della super da 4 a 5 colpi. Serviranno 5 colpi a segno per carica della super. Semino, ti abbiamo voluto bene, sei stato fantastico nelle championship. L'ultimo, ma non meno importante, anzi forse il più particolare. Mantello rinforzato è stata rimpiazzata con una nuova abilità stellare per Mr. P. Porte girevoli, ovvero ragazzi, la stellare è quella che prima aumentava la salute della torretta che nessuno utilizzava. Ora, attenzione, porte girevoli. La velocità di rigenerazione degli assistenti sconfitti viene ridotta di 3 secondi. Praticamente ti permette di avere più pinguini velocemente. È una gran cosa. Se non erro, si torna, credo, alla vecchia velocità di spawn dei pinguini? Non lo so, però tanto tanto carina questa cosa e almeno permette una doppia scelta tra la proiezione della valigia oppure quest'altra, le porte girevoli. Questo è il bilanciamento recuperato. Fatemi sapere cosa ne pensate e do il triste annuncio, non ci stanno più i sondaggi ragazzi. È inutile che io vi dica, votate il sondaggio, non ci stanno più i sondaggi, ce l'hanno tolti. Grazie YouTube, era una cosa fantastica, non ce l'abbiamo più. Lasciate un pollice perché adesso andiamo a prendere gli schiaffi in ricercati. Oh, Boni che ci sta a Bombardino. Devo stare al centro, Bono, carino e coccoloso. Vediamo se riesco a predittare. C'è sta già via al centro, io vado laterale. Pensavo di andare io ragazzi. Ah, ok. Decidiamoci, vado io al centro, esatto. Esatto, Grax se ne va al centro. Penny, Jesse, fidatevi che non sarà facile tirarli giù. Tra l'altro, cosa molto sexy ragazzi, non abbiamo tolto neanche Jesse. Sfruttiamo ragazzi il Semins per l'ultima volta, dopodiché non ci sarà più il bel Semino, quello molto sexy che abbiamo sempre imparato a conoscere. Mi jumpo un attimo laterale perché altrimenti prendo troppi danni e cerco più che altro di non morire sotto i colpi di Jesse. Ci provo, regga, ma sono morto. 7-13, partita molto complicata. Ci serve la ulti di Jovi che deve aprire e così sfruttiamo magari una gittata migliore. Presa Penny. Penny, ciao. Non la so neanche riconoscere. Presa Jesse. 12-13. Pian piano la stiamo recuperando. Yoshi deve andare sul Bombardino e cerchiamo di prendere queste 30 coppe perché da come vedo non è che siamo partiti al top. Ok, fermi che devo colpire. Maronna, 12 di life! Ok, 14-13. Qualcosa ho fatto, devo rimanere dietro perché se no non ho life. Tra l'altro, rimanendo nel cespuglio riesco anche a caricare il colpo boostato e potrebbe essere ottimo, ma Yoshi mi sa che mi crepa, regga. Yoshi mi sa che mi ci lascia le penne. Eh no, sto per morire ragazzi. Quindi, jump a destra, sto messo malissimo. Non ho life. E come caspita sono morto! No, che errore che ho fatto! Ho fatto un big errore ragazzi. Ho fatto veramente... Sì! L'ho preso in qualche modo! 20-21! Jovi deve provare a fare qualche colpo dalla distanza. Da che ce la possiamo fare? Si può recuperare? Credo di sì. Credo di sì. Eh, ce sto a provare, regga. 20-26. È andata via la prima. Bene, prima persa ragazzi. Ho giocato malissimo io. Piper, per giocarla bene e vincere, devi fare un po' di training prima. Io non mi sono allenato. Ho giocato male. Colpa mia. Ci riproviamo. È una sconfitta. Non è un problema. Ieri abbiamo fatto un sacco di coppe con la sopravvivenza in singolo. Allora, in teoria sulla carta siamo messi meglio noi perché loro non hanno il trower. E qua il trower funziona veramente tanto. Cioè, fare il trower è fondamentale per tenerli a distanza. E io subito kill. Subito kill. Cosa che avrei dovuto fare prima, ma che non ho fatto perché non sono capace a giocare. È morto male. Yoshino ha un grosso vantaggio. Infatti, killa la Shelly. Se riesce a caricare la ulti, riesce anche a bloccare l'avanzata di Frost. Correggetemi se sbaglio. Mi sto a fare colpi gratis. Ho tirato un colpo bello strong. Yoshino toglie lo spikeino. Ma devo stare attento alla Piper. Altrimenti non riesco ad avanzare. Certo, se non nel trower abbiamo praticamente la situazione molto comfort. Piper mid, incredibile. 300 di vita. 8-3. Sembra una partita molto più easy rispetto a quella precedente. Però sto rossicando perché la prima l'abbiamo persa. E non mi piacciono a me queste cose. Altro colpo per Piper che non arriva. I jovi può cominciare ad aprire con la ulti. Può cominciare ad aprire. Soprattutto a destra, a sinistra o centro. Così da spingere eventualmente il team avversario più indietro. E soprattutto senza un'eventuale difesa. Esattamente. Buona la kill su Piper. 10-3. Ci manca pochissimo. Mamma mia quello Spike quanto ci è mancato. Siamo molto più compatti. Ma solo per il fatto che loro non hanno il trower. Con il trower sarebbe stato differente. E mi sono fatto ammazzare. Ma che sto a combinare? Grax sveglia te. E vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Stiamo a giocare male ragazzi. Stiamo andando con superficialità. Se giociamo così non andiamo da nessuna parte. Non hitteremo mai record. Né nulla. Spike è totalmente folle. Bella la kill di Yoshino. Il colpo è entrato. Colpito il Brock. Potrebbe eventualmente chiuderla Giovi. Colpendo il Brock avversario. 12-10. 16-10. L'abbiamo chiusa. Sarebbe top fare 4 stelle. Ma per fare 4 stelle bisogna kill. Una kill. Una kill che è schiacciante. Te dico fermate fratelli. Te dico fermate fratelli. Vai di schiacciante. Perché la schiacciante entra nel momento in cui si fanno 10 stelle in più degli avversari. Pulì di shield. Grax MVP. 537 ma siamo molto sotto rispetto agli altri. In Italia il primo no. Il secondo è un GX. E ha 669 coppe. Solamente un'altra schiacciante potrebbe salvarci e andare a 100 coppe dalla top più o meno. Brock Dick Penny. Anche questa è molto complicata. Forse è una gettata leggermente più lunga. Ma Penny mi fa molta paura. Questo è un team buono. Se la vinciamo è tanta roba. Io provo a fare qualche colpo da distanza. Brock è totalmente OP raga. Brock è totalmente OP. Semino mi dà. Quindi se Yoshi mi dà. Io provo. Ok change. Yoshi sinistra. Yoshi sinistra. Che c'è sta dick che me distrugge. If you can. Forse ho preso qualcuno. Non ho preso nessuno. Eh Penny tanta roba. Non riesco ad avvicinarmi ragazzi. Devo andare un po' a casaccio. Con i colpi quasi preso Brock. È molto difficile. Ho poca life. Sono costretto a indietreggiare per recuperare un po' di vita. Yoshi sta prendendo il vantaggio sul mid. Danni molto importanti. Posso parare a colpire Penny. Non ho presa. Brock è preso. Kill di Grax. Kill di Grax sul centro. Occhio Jovi a sbilanciarti in maniera mistica. Recupera un po' di vita. Poi ritorna in carreggiata. Penny mette un mortaio. Il mortaio ci darà grossi problemi. Tutto sta nel caricare la ulti di Jovi. E Jovi deve cominciare subito ad aprire. Però si è esposto ragazzi. E Jovi ci va giù. Per guardare Jovi non ci credo l'ha killato. Aspettate. Riprendete vite raga. Siamo in vantaggio sulle kill. Ho colpito Mr. Tick. Penny where are you? Presa. Mi sono fatto ammazzare raga. La sto rischiando di brutto. Non voglio perdere mai nella life. Voglio essere sicuro nei movimenti. Brock penso che sia lì. Non so se è meglio. Ok. 200 di life. Non so se è meglio. La star power è quella che ti permette di colpire più velocemente. Ho di killare il Brock. Oppure quella che colpisci Tarce Spuglietto. Togli la testata nucleare. Colpisci la Penny. Io non sto giocando male in questo momento. La prima ragazzi sapete che è Dainabby. Ci potrebbero schiacciare con i mortaio. Però secondo me Penny ha sbagliato proprio il mortaio. Penny ha sbagliato il mortaio ragazzi. I think. Ok. Tutto due. Bravissimo. Raga. Basterebbe killare qualcuno sulla sinistra. So che bestocchiete forse troppo. No. Era schiacciante ragazzi. Per una stella. La stella iniziale. Ma va bene. Sono un totale di 68 coppie. Scendiamo leggermente di media. Ma siamo alla settima giornata. Con un parziale che vi dico subito. Faccio la media. Ci salutiamo. 567 diviso 7. 81 precisi. Per 14. 1134 di proiezione. A fine sete di potere. Io ringrazio i moderatori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate il bilanciamento. Perché i sondaggi non ci stanno più. Vi mando un bacio e ci becchiamo probabilmente questa sera in live alle 20 e 30. Ciao ragazzi. Un bacio nei moderatori che mi supportano sempre. Ciao. Codice Grax. Like. Iscrizioni. Ovviamente per una volta che non controllo il negozio. Per spalmarvi sul pane il codice creatore Grax. Mi dimentico la cassetta gratis. Pronti al gadget? 3, 2, 1. Give me the gadget. 48 monete. Faremo magari qualche brawler argentato. Mi è arrivata pure una donazione. Ciao. Ciao.